E quando vi dico ragazzi che vi dovete iscrivere al mio canale YouTube, attivare la campanella e lasciare un bel like, perché lo dico? Innanzitutto perché siamo sempre più vicini a quota 77.000 iscritti e poi perché c'è tantissima, ma davvero tantissima, carne al fuoco. Allora, l'argomento decreto crescita, che oggi ha catturato l'attenzione dei media con le prime pagine dei vari giornali, con analisi molto approfondite, è un argomento che voglio affrontare, questo, nell'arco del pomeriggio. Io ho ancora vive le parole di Giorgio Furlani, il CEO del Milan, che recentemente aveva dichiarato senza il decreto crescita sarebbe la distruzione del calcio italiano. Come sappiamo, ieri la proroga del decreto crescita richiesta dai club della Serie A non è stata approvata dal governo, quindi allo stato attuale dell'arte le agevolazioni dal 31 dicembre termineranno e si preannuncia davvero un casotto, davvero qualcosa di impattante. D'altra parte, le parole di Furlani andavano in un'unica direzione e ieri è successo qualcosa che non ci si aspettava, perché tutti invece erano abbastanza convinti, per tutto intendo le persone che governano il sistema calcio Italia, che questa proroga venisse approvata e invece no, è arrivato il secco no dal governo. Vedremo quale sarà l'evoluzione, ma ne parliamo oggi perché quanto è accaduto ieri rischia sensibilmente di condizionare in maniera pesante i piani dei club italiani. Tutti, non solamente i big, senza eccezioni. Prima di tutto voglio fare però un grosso in bocca al lupo a Giulio Doratiotto, calciatore della Next Gen, una persona di grande cultura, molto preparata, un buon giocatore. Ieri, lavorando poi con dei colleghi, abbiamo trovato piene conferme sul fatto che Doratiotto sia già stato praticamente venduto, classe 2004, e per lui lo stesso destino di De La Valle, che in estate era stato ceduto ai Los Angeles, mentre Doratiotto andrà a giocare a Phoenix. Tutto fatto, visite mediche già programmate per metà gennaio. D'altra parte, quando faticchi a trovare spazio in Next Gen, e quindi non puoi alzare il livello di ambizione perché la prima squadra la vendi lontanissima e difficilmente puoi entrare nel giro concreto poi di Max Allegri e quant'altro. Ci sono tanti giovani, specialmente quando si gioca una partita a settimana, giochi molto forti e fatica a trovare spazio, figuriamoci gli altri. Quindi credo che sia giusto guardarsi attorno, capire magari che a 19 anni sia arrivato il momento di fare un'esperienza differente e puoi andare in America, imparare la nuova lingua, la nuova cultura, misurarti in un altro tipo di calcio, allargare i tuoi orizzonti. E quindi credo che Doratiotto abbia fatto molto bene ad accettare la proposta arrivata lì da Phoenix. Tutto definito e quindi per chi ha avuto modo di seguire questo ragazzo molto originale anche sui social, che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia Juventus nelle giovanili, niente, è una storia questa che si chiude. D'altra parte il contratto di Doratiotto scadeva il 30 giugno 2024, quindi questo giugno è con un Gimiranza seguato attorno e ha trovato questa soluzione statunitense. La Juve credo che incasserà dei bonus e se non erro una percentuale in caso di futura rivendita. Comunque alla fine della fiera trattativa chiusa e Doratiotto dopo Della Valle è un altro calciatore di proprietà della Juventus a lasciare a titolo definitivo i bianconeri per abbracciare il mondo a stelle strisce. Quindi tutto il bene di questo mondo per Giulio e per la sua carriera. E poi c'è questo duello Juventus-Inter, un derby d'Italia che ricorda, seppur con caratteristiche differenti, quello che era stato portato avanti da queste due squadre per Gleison Bremer, perché qua il piatto forte si chiama Thiago Jalò, difensore di proprietà fino a giugno del Lille, un calciatore che è alle prese con il rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con un passato già in Italia con la maglia del Milan e la sua scadenza nel 2024 è un'occasione che viene ritenuta importante, sia dall'Inter che avanti, quantomeno con il giocatore. L'Inter da settimana si è mossa, sappiamo bene come Beppe Marotte per ausilio caldeggino queste possibilità di prendere giocatori a zero, soprattutto quando devi smontare e rimontare un pochettino la squadra cercando la stabilità finanziaria, ma ieri in giornata la Juventus si è mossa. Si è mossa nuovamente con i suoi dirigenti, con gli intermediari. Tra le varie strategie ci sarebbe quella di magari prendere subito a gennaio Jalò e parcheggiarlo per la seconda parte di stagione in una squadra che lo faccia giocare, che quindi gli dà la possibilità di recuperare da questo grave infortunio, però dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione senza volare troppo con la fantasia, perché l'Inter resta avanti, ma dire che la Juventus stia facendo delle manovre per cercare di ostacolare il carro nero-azzurro, al tempo stesso tutelare i suoi interessi, perché Jalò ha 23 anni, quindi è un giocatore anche di prospettiva. Poi è chiaro che dopo un grave infortunio c'è sempre questo punto interrogativo e bisogna fare molta attenzione, ma il mercato dei parametri zero è allettante. Ovvio, e qua torniamo al discorso di apertura, che con tanti saluti a decreto crescita si rischia di rivoluzionare tutte le strategie portate avanti fin qui, e siamo a fine dicembre dalle varie società big, medie, piccole, e questo non dobbiamo sottovotare in maniera più assoluta a questo aspetto, ma ne parliamo oggi pomeriggio. Dopodiché spazio anche al calcio giocato, perché vi ricordo che 29 dicembre è uguale vigilia di Juventus Roma, appuntamento domani sera all'Allianz. Già ieri abbiamo detto che Locatelli, Chiesa e Vlaovic hanno lavorato in gruppo, quindi sono abili e ruolabili per il big match. Ascolteremo oggi direttamente poi le parole di Max Allegri alle 14, che presenterà questo incontro, e cerchiamo di capire proprio nel concreto, nel concreto quale possa essere la probabile formazione, perché eccezione fatta per la squalifica di Cambiaso e altri acciaccati, come Alexandro. Il resto, cioè, ci sono più scelte, regna l'abbondanza in attacco, tolta l'indisponibilità di Moise Ken. D'altro ho visto il prodotto che ha fatto con Dazon, molto bello. Moise Ken, non so se avete visto la sua intervista con il collega, amico Barsotti. Davvero un prodotto di grande qualità, dove Ken, più maturo, più uomo, ha spiegato il suo rapporto con la Juventus, il suo percorso all'interno del club, il feeling che ha con Max Allegri. Speriamo che il 2024, la seconda parte di stagione, possa portare Moise Ken. Non dico ad alzare il livello di rendimento, in termini di performance, perché ne ha fatte di belle performance, anche recentemente, ma poi servono i gol, e Ken non segna il primo aprile. Poi sì, è vero, è stato sfortunato, col Toro aveva fatto un gol bellissimo, ma era in fuorigioco. Con il Verona, un altro bellissimo, ma era in fuorigioco. L'altro invece, a mio modo di vedere, era buono, ma per il contatto con Faraoni, quasi tragicomico, gli era stato tolto. Serve che Moise torni a segnare, ma per chi non avesse visto quest'ottimo prodotto con Dazon, davvero vi invito a recuperarlo. E poi c'è il tema Ildiz. Oggi in questa vigilia, so che il tema Ildiz è quello che scalderà i vostri commenti, le vostre fantasie, ma è giusto così. Avete ragione voi. Avete totalmente ragione voi. Perché quando un ragazzo di 18 anni, classe 2005, giocava con questa personalità, fa un gol del genere, noi dobbiamo anche gasarci, entusiasmarci per i gesti tecnici. Non possiamo sempre vivere con il love profile nella depressione, ovviamente rapportata alle tematiche non importanti come quella calcistica, perché poi la depressione è una cosa molto più grave e non va minimizzata nella maniera più assoluta, però tendiamo sempre a guardare il nero, sempre a non mettere mai nel mirino la luce in fondo al tunnel. E quando c'è una ventata d'aria fresca, ce la dobbiamo anche godere. E quindi, se Ildiz, gasa il pubblico, giuventino, chi sono io per spegnere le ambizioni degli stessi tifosi. E' ovvio che con il recupero di chiesa, Cevlaovic, che scalpita per una maglia la titolare, perché ha smaltito la botta che ha sbagliato il piede sinistro che ha preso, Milik, però è giusto che questo ragazzo cerchi di scalare ulteriormente le gerarchie e che tenti di dare continuità a quanto di ottimo fatto vedere in quel di Frosinone. Insomma, ricapitolando, decreto crescita allo stato attuale, batosta, ieri è arrivata una batosta per il calcio italiano, le parole furlani d'altra parte delle scorse settimane fanno davvero capire come si stia tremando di Thiago Jalò, ne abbiamo parlato di questo duello tra Juventus e Inter per cercare di prendere il giocatore in scarenza di contratto con il Lille. Al momento i nerazzurri sono più avanti con il giocatore ma la Juve ieri ha fatto registrare delle manovre con intermediari e con il Lille stesso. Giulio Doratiotto lascia la Juventus, la next gen e si trasferisce a Phoenix, trattativa definita con il giocatore che volerà in direzione States a metà gennaio per le visie emeliche già fissate e poi c'è la vigilia oggi viviamo la vigilia di Juventus Roma. Insomma, mi sembra che il menu sia dei più ricchi, eh? Iscrivetevi 77.000 è la nuova di Juventus Roma. Grazie a tutti.